buono dove siamo inquadra ma guarda quale quattro da bus dove siamo? Verzeca, Liveat, Rom guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello le persone non inquadrarle rispettiamo le premesi di Verzeca un po' di fatene fumare sentiamo se vede un senso come il cane spopolato della pontina senti ma che cosa è successo? Ci spiega un po' i nostri dirispettatori di Youtube ah vai vai, lanciatelo là ecco, sei del male ah, 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 mi dobbrediamo insomma, io credito quello sgameranno ah ah, c'è ah.. un attimo, ho capito un piccine del tasto degli spettatori aspettati che mi c'è una srega un'accendinoda fuori campo quiiii vabbè c'è ma questa mano di chi sarà? l'ultimo marco d'arca torna 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 questo io me lo dedico a voi ma coddio per ora Ma che c'era? Hai preso a quelli